Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Sono cominciati gli interventi di restyling di Ponte e Marconi, strada di collegamento tra i quartieri Portuense e Marconi. I lavori interesseranno lo sfalcio della vegetazione, la sistemazione dei marciapiedi e dei parapetti in travertino fortemente ammalorati e in parte fratturati, per lasciare spazio al cantiere dal 25 agosto verrà chiusa al traffico la corsia che fiancheggia il marciapiede in direzione dell'Euro, poi da metà ottobre sarà invece chiusa la corsia che fiancheggia il marciapiede in direzione del centro. In entrambe le fasi le restanti tre corsie rimarranno completamente transitabili, i lavori si concluderanno entro la metà del mese di dicembre. Aggiornamenti su romamobilita.it